Scusa, è già squillata la campanella della scuola? Non lo so. Ciao! Ros! Ma stai benissimo! Anche tu, sei bella da far schifo. Com'è che ti chiami? Pecca titta Zasa Cocò? Ale! Ale, Ale, banale Ale. Senti, sembra ieri che abbiamo messo al mondo i nostri bambini e adesso siamo davanti alla scuola elementare ad aspettarli perché dai, sette anni, sono piccini, piccini. Sì, ma il mio non metto. Dai! Oggi è venuto a scuola guidando la moto del nonno, Kawasaki 1000. Buh, che paura! Cartier. No, invece il mio è venuto a scuola pilotando un Boeing 747. Aereo di cortesia perché lo shuttle era fare manutenzione. Louis Vuitton. Gucci. Comunque mio figlio è il più intelligente della classe, no scusa, della scuola. Lo sai che ieri ha preso dieci in matematica? Il mio ha preso undici. E pensa che il giorno della verifica aveva la febbre. No, il mio la malaria. Dove l'ha presa? In Kenya. Eh, si prende bene, lì è buono, è buono. Chanel. Anch'io. Lo sai che mio figlio ha sette anni ed è già un gentiluomo. Ma sì. Pensa che settimana scorsa la sua maestra ha regalato un mazzo di fiori così grosso. È grosso e grosso. Ma con dentro orchidele, anecocchi, palme. Ma sai, il mio la maestra ha intestato direttamente Interflora. Capitale sociale, 8 milioni di euro, un fenomeno, è come suo padre. Eh, lo so che suo padre è un fenomeno. Lo so. Io ultimamente ho un mal di testa qua che mi si spacca la fronte. Dai, tipo due bernoccoli che escono. Sei brava. Eh, sì, sì. Ce l'hai durante la settimana, Weekend's Paris? Sì, come fai a saperlo? È intuito femminile. Senti, ma passa? Eh, speriamo di no. Come? No, passa, se passa. Comunque sai, mio figlio ha tutta la mia vita, la mia luce, il mio respiro. Sì, e poi ha anche di buoni sentimenti. Ma dai. E all'intervallo divide la merenda con i suoi micchetti. No, il mio la moltiplica. La perla, 300 euro. Taglia quarta, 9.000 dollari. Mio figlio è tutto per me, va bene. Dai, a me lo dici. A me lo dici. Attento che ti cadono le labbra con quello che lei pagate. Guarda, io per mio figlio potrei addirittura rinunciare a una lezione di CrossFit. Oh, vuoi che esagero. Esagera. Chateau, chateau, chateau. Allora, io per mio figlio potrei anche rinunciare al French Manic. No, anzi, io vado a cambiare questo rubino perché voglio fare anche io il French. Sto andando. Senti, Rougenouar anche lo voglio fare. Senti, vai verso Via della Spiga. Eh, certo. Mi daresti un passaggio perché sono venuta qua in bicicletta che fa tanto di sinistra, in Tillimani, quelle robe lì, no? Che mi piace tanto. E ho dato il Cayenne alla Colf. Ma sei pazza? Pazza, pazza, pazza! Allora, aspetta, scusi, bambini. Ma senti, si comprano un taxi e torno a casa da soli. Non possiamo fare tutto noi. Stamattina abbiamo già fatto Pilates. Ma basta! 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 Grazie.